Padre mi aiuti, mio figlio è gravemente malato e non abbiamo i soldi per curarlo. La truffa da 20.000 euro è iniziata così e la vittima, un anziano sacerdote della diocesi di Pavia, ha fatto quello che gli suggeriva il cuore. Ha iniziato a versare denaro al presunto genitore disperato, arrivando a fornirgli alla fine, tramite diverse ricariche post e pay, una cifra di simile rilievo. Quando il prelato, insospettito, ha sporto denuncia in questura, ormai era troppo tardi per recuperare il denaro, ma le indagini, serrate e condotte dagli agenti della squadra mobile, hanno fatto centro in breve tempo identificando il truffatore che è stato denunciato a piede libero, dopo che a casa sua si è trovato parecchio materiale che dimostrava la sua colpevolezza. Ma non è tutto, dalle indagini è emerso che non soltanto lui, era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, anche la sua compagna era schedata, come lui, per truffe o più tecnicamente, reati predatori contro le fasce più deboli.